Se va al ballottaggio la signora Maroni è chiaro che noi diremo ai nostri azzurri di votare per lei. Peraltro, siccome saremo soltanto noi a votare per lei, io credo che la candidata di 5 Stelle prevarrà perché per vincere dovremmo avere anche i voti del Partito Democratico. Il Partito Democratico ci ha fatto sapere che ove ci fosse una sfida tra Marchini e Laraggi loro potrebbero votare per Marchini, quindi Marchini è l'unico che quello che noi sappiamo può battere Laraggi.